Salve a tutti, sono Mr. Camaroum, mi raccomando lasciate un like e registrato dal canale. Oggi improvviso questo video effetti non ho il tempo neanche di mettere la camera sul cavalletto perché visto che i leggianti stanno facendo sempre più buie ho l'esigenza di avere la possibilità di accendere subito la luce sul pianerottolo per non far cadere o inciampare qualcuno mentre sta salendo. Quindi la soluzione che ho trovato è quella di creare un impianto con deviatori, non interruttori. In questo caso qui ho già fatto il lavoro perché come ho detto ho dovuto improvvisare il tutto. In questo tipo di impianto sciogliono tre cavi, quindi allora il suggerimento mio per chi vuole fare questa cosa la suggerisco su brevi tratti perché a causa del passaggio di tre cavi il costo diventa più alto. Diversamente se i punti di accesso per accendere la luce sono più numerosi vi suggerisco quello a relay. Adesso andiamo a vedere prima come configurare e impostare questo tipo di impianto. quindi lanciamo i video che avevo preparato precedentemente su il banco. Per pilotare il mio impianto con due interruttori, ovviamente con un solo punto luce andrò ad utilizzare due deviatori della linea Living Internazionale. Ovviamente questi qua non sono quelli originali, sono quelli più economici. Tenete presente che in questo modello il punto comune è questo qui. 1 e 2 sono i punti di deviazione. Allora, come andremo a configurare questi due deviatori? I due punti 2 e 2 vanno collegati insieme, la stessa cosa 1 e 1. Questi due punti, i due punti comuni, vanno praticamente in serie alla lampada o punto luce. In questo modello qui è possibile inserire anche l'illuminatore per l'interruttore che è un modello a LED, è una novità che si sta portando già da diverso tempo in cui posso uscire addirittura anche il colore. Questi qua, se non erro, dovrebbero essere blu. Adesso, se abbiamo un impianto con lampade a LED, i nostri punti di luce sono a LED, questi qua andranno collegati direttamente a 220. Viceversa, se avete ancora un impianto tradizionale a filamento o a neon, questi qua li potete collegare direttamente in parallelo, come praticamente tra il comune e uno dei due punti 1 o 2. In questo modo si accenderà o si spegnerà in base all'alimentazione della lampada. Adesso possiamo procedere a vedere come andare a piazzare sull'impianto. A posto. Io spero che in questo video che avete visto vi essi chiaro, che avete le idee chiare. Adesso vi illustro come sono andato a montarlo lì a parete. Allora, come avete visto qua, anzi, come si può notare, io ho utilizzato solo due colori. Quindi i due grigi sono i due cavi che vanno a collegarsi con il deviatore all'interno, come avete visto nel video. Il blu invece è quello che si collega sul comune del deviatore. Uno va sulla fase e l'altro va a collegarsi praticamente sulla lampada. In questo caso qui io ho montato un illuminatore a LED che non ho potuto collegare direttamente qui sopra perché io qua sto montando delle lampade a LED. Queste lampade a LED sono molto suscettibili alle tensioni sulla fase. Quindi questo qui rischia di far lampeggiare la lampadina. Quindi ho preferito lasciarlo fisso. In effetti ho passato un cavo a 220 che va a alimentare direttamente il illuminatore. Adesso vi faccio vedere. Premendo, ecco qua, si accende benissimo. In effetti se entro dentro e faccio la stessa cosa, vado a spingere la lampada. Questo qui ovviamente rimarrà sempre fisso. Comunque non fa niente. A voi vi lascio comunque una buona giornata. Spero che sia stato, che sia, sono stato chiaro, e che questa soluzione possa essere anche utile per voi, almeno anche sui costi di risparmio. Perché, come ho detto prima, questo tipo di impianto su tre cavi costa di più rispetto a quello di un relay. Poi ovviamente ognuno fa i suoi calcoli, perché potrebbe essere anche quella relay costa di più rispetto a questo. Dipende il discorso dove voglio portare il cavo. Comunque vi ripeto, buona giornata a voi e lasciate un like.